Si chiamava Jenniferan Crescente, ma era una donna che purtroppo non c'è più perché purtroppo è defunta. Questa donna infatti è stata uccisa da parte del fidanzato ma è risuscitata non per davvero ma sul web ma è utilizzando l'intelligenza artificiale, la cosiddetta IA. Pensate che si può infatti accedere sul web all'archive, si chiama così Archive, e parlare diciamo così con Jenniferan Crescente come un personaggio immaginario creato dall'intelligenza artificiale, competente, amichevole, che può dare informazioni su una marea di argomenti fra cui la tecnologia, il pop, i videogiochi. Ha competenze nel mondo del giornalismo, può dare consigli sulla editing e sulla scrittura. Pensate che già poco più di 60 persone sono già state di noi informate ma sono consultate con questo personaggio immaginario che ha le sembianze proprio della donna che non c'è più e chattare proprio con lei, va bene? Poi è stato ripinato da parte della famiglia della ragazza, infatti il padre ha scoperto tutto, ha richiesto subito la cancellazione perché è disgustoso, secondo il padre, che si ricorda, se vi ricordo si chiama proprio Drew Crescente. Insomma, trovare la propria amata figlia nel web, tra l'altro un personaggio immaginario creato dall'intelligenza artificiale, è stato qualcosa di assurdo e è stato un colpo al cuore. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua. Una buona serata a voi.